Gentili telespettatori, buona giornata. Il Fatto Quotidiano ci dice che forse Meloni non mangerà il panettone, ma è importante ciò che verrà dopo. Quando si dice non mangerà il panettone è una frase come dire non arriva a Capodanno, non arriva al primo di gennaio. Diciamo che la speranza dell'opposizione è quella che il governo finisca anticipatamente. Era un po' la speranza dell'opposizione quando c'era Draghi, si sperava sempre che il governo cadesse velocemente, ma diciamo che non credo realmente che la Meloni dia le dimissioni. Perché c'è questo o quel problema? Non credo proprio. L'unico modo perché il governo possa cadere è che manchino i numeri. Per mancare i numeri deve Salvini o Tajani uscire dal governo e allora il governo non ha più i numeri e cade. Questo è l'unico modo, ma altri modi non ce n'è. O meglio, un altro modo è che lo spread salga e arrivi alle stelle, ma non vedo i presupposti. Perché il governo è stabile, i conti, insomma, a parte il debito, ma quella è una cosa da sempre, per il resto il governo sta tenendo i conti in ordine. Aumenta il PIL, aumentano le entrate fiscali, addirittura ci sono 26 miliardi nel cassetto, inaspettatamente. Quindi io personalmente non vedo le condizioni necessarie per far cadere un governo. Però naturalmente a sinistra la speranza è l'ultima ad andarsene. E così il fatto quotidiano dice che sono tempi duri per la signora Meloni. E anche qua, nel termine signora Meloni, non so, forse ve lo racconto nel prossimo video. Beh, insomma, diciamo che l'articolo apparso sul fatto utilizza termini e frasi, diciamo che trassudano e denotano molto rancore. Per esempio scrivono che la Meloni è un'astuta politicante emersa dal putrido bacino della destra italiana. Insomma, diciamo che non sono proprio delle parole di elogio, ecco, insomma, sono delle paroline, ecco. E dicono però sul fatto che il suo periodo di grazia sarebbe finito. Mentre lei accetta diktat degli Stati Uniti, dalla Nata e dall'Unione Europea, mentre fa una gestione propagandistica della sua immagine, donna, madre, cristiana, eccetera, eccetera, e poi dice che è avvallata dai poteri imperiali. Ma cosa sono i poteri imperiali? Beh, i poteri imperiali, va bene, questa è nuova, non l'avevo mai sentito, è i poteri imperiali. Ma a questo punto dicono che adesso la conseguenza inevitabile è l'inabissamento, quindi il governo si sta inabissando. A me non sembra realmente, è certo, ci sono dei problemi all'interno di questo governo, capite che ci sono delle cose che si potrebbero fare, come cercare di togliere i debiti della RAI, liberalizzandola, mettendo magari delle tasse sugli extra profitti delle banche, ma non si può fare perché all'interno del governo c'è una famiglia di imprenditori che sono i berlusconi e andrebbe contro i loro interessi. Quindi è inevitabile che ci siano dei problemi. Però io non vedo problemi tali da inabissare questo governo. Chi scrive in questo momento sul Fatto Quotidiano crede che invece ci siano. E la parte primaria e decisiva, scrivono sul Fatto, è costituita ancora una volta dai rapporti internazionali ed europei. La rottura dell'alleanza con la pessima von der Leyen non è certo un cidente di percorso. In realtà lì non ci sarebbe stato un problema con la von der Leyen perché la Meloni e la von der Leyen sarebbero state d'accordo in segreto sul fatto della rielezione. Questo ve l'avevo raccontato. Però sul Fatto comunque sono convinti che ormai il governo si stia inabissando. E poi parlano del successo strepitoso della raccolta firme per il referendum sull'autonomia differenziata. Dimostra, scrivono, che l'elettorato italiano non è dalla sua parte e se si riesce a bloccare questo progetto dell'autonomia differenziata si pregiudica il disegno meloniano nel suo complesso. Ma la Meloni aveva detto chiaramente io porto in voto l'autonomia differenziata, quello che chiamano il premierato, la legge sulla giustizia, poi saranno gli italiani a votare sì o no. Se gli italiani prima mi chiedono queste riforme oppure io propongo queste riforme e gli italiani mi seguono e poi non lo vanno a votare perché se il centrodestra ha la maggioranza di governo e poi gli italiani quando gli porti una legge non vanno a votare la Meloni ha fatto capire che non è più un problema mio. Il mio compito si esaurisce quando io porto le leggi al punto finale. Poi se serve un referendum e quelli di centrodestra non vanno a votare perché stanno a casa a guardare per aria non è che do le dimissioni perché quelli di centrodestra non vanno a votare il referendum. Il mio compito è stato esaurito. Io porto il referendum, c'è da votare perché il referendum è obbligatorio se gli italiani poi di centrodestra non ci vanno non è che io do le dimissioni. Quindi a chi vuol far credere che i referendum sulle riforme costituzionali siano una prova di tenuta del governo o una valutazione sulla Meloni e la Meloni aveva già fatto capire che per lei non lo è. Dice io porto le leggi poi se gli italiani non vanno a votare amen, problema loro. Io ho fatto quello per cui mi hanno votato. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci e grazie. Grazie.